Per una ricostruzione resiliente, esperienze proposte a confronto è stato il tema del convegno tenutosi nei giorni scorsi ad Ascoli Piceno, promosso dalla Scuola di Architettura e Design di Unicam in collaborazione con il Comune di Arquata del Tronto. Obiettivo dell'evento è stato quello di fare il punto sul processo di ricostruzione avviato da oltre due anni dall'evento sismico, con un dibattito nazionale e internazionale sui temi della prevenzione, del rischio e delle politiche integrate per la ricostruzione e la rinascita dei territori più fragili e maggiormente colpiti dal terremoto. Nel corso dell'incontro è stato anche presentato il documento direttore per la ricostruzione, DDR, elaborato dalla Scuola di Architettura e Design, le attività in essere dell'amministrazione comunale e la carta di Arquata del Tronto, documento di carattere politico e programmatico che traccia le linee guida, che intende ispirare la ricostruzione non solo di Arquata del Tronto, ma di tutti i comuni interessati dall'evento sismico.